Vigili urbani nei cantieri per segnalare le imprese che non rispettano le norme di sicurezza è la proposta avanzata dal Comitato Provinciale di Coordinamento, composto dai tre Spisal dell'Ulss2 della marca trevigiana, che si sono riuniti in un incontro convocato d'urgenza dopo l'ennesima tragedia sul lavoro. Otto le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno, un vero e proprio stilicidio quello degli incidenti sul lavoro nella marca, al quale le autorità competenti sono chiamate a porre un freno al più presto. E l'ulteriore ipotesi messa sul piatto dagli Spisal, dall'Ispettorato del Lavoro e dall'Inail è proprio quella di incentivare i controlli e la vigilanza sui luoghi di lavoro, chiedendo la collaborazione della Polizia Locale. Ci muoviamo su tre linee, la prima che è sempre quella della prevenzione, dove andremo a aumentare ovviamente gli incontri, la formazione nelle aziende, la seconda è un rapporto sempre più stretto con l'industria per collaborare insieme, la terza una proposta ai comuni che poi ci diranno dove chiediamo di poter utilizzare i vigili urbani per fare un po' una vigilanza sul territorio visto che loro sono più capillari. Controlli mirati soprattutto nel settore dell'edilizia per verificare il rispetto delle normative di sicurezza, una collaborazione che il Comune di Treviso ha intenzionato ad incentivare per porre un freno alla piaga degli infortuni sul lavoro. Ciascuno facendo il proprio, i vigili pertanto possono entrare e verificare lo stato della situazione, le norme di sicurezza e se tutta l'attrezzatura che è prevista dalla normativa viene effettivamente impiegata.